Il mio nome è Stefano Rovida, sono il vicepresidente di Castelli e Greve Pesa, una grande cooperativa che riunisce decine di produttori nell'area del Chianti Classico, operativa da oltre 50 anni nel nostro territorio, quella che noi vogliamo chiamare una grande famiglia del Chianti Classico. La nostra azienda è una cooperativa e raggruppa una serie di produttori che hanno deciso di non vinificare in proprio, ma conferire il proprio prodotto per la valorizzazione all'interno di un gruppo consortile il quale poi provvede alla vinificazione, alla generazione delle etichette e alla commercializzazione dei prodotti, con la finalità sempre e comunque di valorizzare al massimo i prodotti dei soci. Questo vino che presento oggi, unitamente ai 100 anni del consorzio, compie anche lui quest'anno 40 anni, è un Clemente VII riserva, Castelli e Greve Pesa, Chianti Classico, un prodotto che esprime il massimo del nostro territorio con 100% di Sangiovese in purezza. L'unicità del prodotto è derivante dal fatto che questa è la summa delle produzioni dei nostri soci che noi cerchiamo di raccogliere in questi nostri prodotti. Grazie per la visione!